Abbattere con l'arma dell'ironia il muro della diffidenza, del pregiudizio e del razzismo verso chi è diverso per cultura, provenienza geografica, religione e farlo utilizzando uno strumento di comunicazione universale come il fumetto che rappresenta una forma espressiva in grado di superare con i disegni la barriera della lingua. E quanto fa la fumettista di origini tunisine ma cresciuta in Italia Takwa Ben Mohamed che ha dato alle stampe il libro Sotto il Velo un'opera che racconta con delle brevi strisce le esperienze che l'autrice o altre donne musulmane col velo hanno vissuto o vivono nella vita quotidiana in Italia sull'autobus come la storia Candy Crash o in un bar come nella striscia Bomba di Cioccolato. Il libro è stato presentato nei giorni scorsi a Nuoro nel corso di un evento ospitato nell'auditorium della Biblioteca Sata. L'incontro è stato promosso dalla sezione cittadina del Lampi di Nuoro e dal Festival Nuoest di Cagliari col patrocino del Comune di Nuoro e del Consorzio di Pubblica Lettura Sata. Alla presentazione del libro, coordinata da Anna Cacciatori e responsabile dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Nuoro sono intervenuti l'autrice di Sotto il Velo e il fumettista, autore e regista Beppi Vigna. Takwa Ben Mohamed, in Italia dal 1999, da quando aveva 8 anni ha raccontato la sua storia di figlia di un rifugiato politico tunisino costretto dal regime di Ben Ali a lasciare il suo paese una bambina che ha iniziato a provare sulla propria pelle le prime forme di razzismo dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 una passione per il disegno nata all'inizio per superare la barriera della lingua all'elementare e poi divenuta una passione coltivata nel tempo. Takwa ha raccontato la sua storia, le difficoltà e i pregiudizi che ha dovuto affrontare dopo la scelta volontaria di indossare il velo e una parte delle sue strisce sono dedicate a situazioni vissute dopo questa decisione e le reazioni che provoca negli altri pregiudizi che Takwa combatte con l'arte del fumetto convinta che per abbattere i muri serva più l'ironia che l'aggressività.